Non si ferma a Teramo la protesta dei commercianti di Corso San Giorgio, ormai allo stremo e alle prese con una crisi epocale, acuita dal prolungarsi dei lavori di rifacimento della pavimentazione, nonostante i promessi cronoprogrammi. Dopo l'esposto alla procura di Teramo, hanno inviato una missiva al governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per segnalare lo stato di calamità non naturale, dovuto all'eccessivo prolungarsi dei tempi e per chiedere l'intervento presso il ministro Franceschini per indurre la sovrintendenza archeologica, rea di perpetrare ritardi, a rimuovere la situazione di stallo. I commercianti denunciano una situazione di estrema difficoltà creata dalla burocrazia e l'indolenza di dirigenti e funzionali pubblici, che potrebbe portare alla morte economica di tutto il centro della città. Nella nota inviata per conoscenza anche al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente del CSM e al Ministro dei Beni Culturali, i titolari dei negozi del centro ripercorrono le tappe che hanno portato alla realizzazione dei lavori, dai sondaggi del 2015, fatti per prevenire intoppi, all'inizio dei lavori a gennaio scorso, con il cronoprogramma che parlava di conclusione delle opere a fine estate. In realtà però, a causa dei ripetuti blocchi da parte della sovrintendenza, il corso è oggi ancora un cantiere aperto, con il terzo lotto bloccato da mesi a causa del ritrovamento di alcuni reperti. La Commissione, che deve decidere sul da farsi, avrebbe dovuto riunirsi già ad inizio settembre, ma ad oggi non c'è ancora nessuna notizia in proposito. E la difficile situazione delle attività commerciali, penalizzate dal quasi totale oscuramento delle vetrine a causa delle recinzioni e dall'annullamento del passaggio pedonale, hanno contribuito a dimezzare sostanzialmente il fatturato dei negozi centrali e a ridurre in maniera considerevole anche quelli dell'area urbana. I commercianti, infine, evidenziano come la situazione sia diventata nei mesi molto pesante, tanto da mettere a rischio il fallimento e la bancarotta, visti i mancati introiti, oltre naturalmente alle difficoltà dovute alla possibile perdita di lavoro per molti dipendenti.